E' stato avvicinato per strada da due donne, palpeggiato ed infine derubato. E' successo ad Arezzo, nel cuore della città, in via Guido Monaco. Una scena ripresa con un cellulare è poi diventata virale sui social. Nel video si vedono le due ragazze accanto al signore. Dopo averlo adescato, una delle due donne ha iniziato a palpeggiarlo, distraendolo, mentre l'altra lo intratteneva parlando. A questo punto la ragazza che lo stava toccando con la mano libera riesce a prendere il portafogli dell'uomo, rapidamente sfila alcune banconote e le infila dentro al reggiseno. Poi, dopo, assieme alla complice, saluta la vittima e si allontana. Una tecnica che sembra ben collaudata potrebbe infatti non trattarsi di un caso isolato, anche se al momento l'episodio non è stato denunciato alle forze dell'ordine.